Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata da Computer Museo Puntata che sarà molto veloce anche perché vi spiegherò questo nuovo contest da Computer Museo E come da titolo scegliete il vostro cartone animato da fare la parodia Infatti in questi giorni io ed i miei amici stiamo raggruppando dei soldi per creare un cortometraggio di un cartone animato a vostra scelta Che poi molto a vostra scelta non è anche perché ci sono solo 5 scelte disponibili Quindi tra queste 5 scelte che è Dragon Ball, One Piece, Naruto, Pokemon e anche Naruto Ma perché vi dimentico sempre uno? Allora ripeto, One Piece, Dragon Ball, Naruto, Pokemon e Lupin Avremo il finanziamento solo per uno di questi cartoni animati Infatti perché i costumi costano molto e quindi non è molto semplice finanziare tutti i 5 Questo lo facciamo perché sinceramente vogliamo cambiare un po' la Computer Museo Visto che sempre sull'ambito tecnico e roba del genere vorrei fare anche qualcosa di più diverso E magari raro da vedere sulla Computer Museo Credo che poi non ne farò mai più di cose del genere Comunque ci sarà questo contest che durerà due settimane Quindi dall'uscita di questo video fino alle settimane prossime Due settimane prossime Raggrupperemo i vostri commenti che voi ci invierete con il nome della parodia che volete che noi facciamo Quindi ad esempio se volete che io faccia la parodia di One Piece Voi sceglierete, scriverete One Piece e così via Una volta raggruppate nelle due settimane tutti i voti verranno valutati Quindi verranno contati tutti i voti E quello che avrà più maggioranza verrà usato per essere messo in atto Comunque in teoria dovrebbe durare sui 20 minuti massimo il cortometraggio Anche perché di solito sono le normali puntate dei cartoni animati Quindi in teoria vogliamo proprio farlo come se fosse una puntata Ovviamente scriveremo noi la sceneggiatura Quindi potrà variare da una settimana Quindi ad esempio avremo solo una settimana per scrivere la sceneggiatura E può variare anche fino a un mese la sceneggiatura Ovviamente il video non so benissimo quando uscirà Però fate conto che noi di solito per girare un film Facendo conto che già in passato avevamo girato un film Ci avevamo messo circa un mese per girarlo e ovviamente anche pubblicarlo Però vabbè non vi anticipo niente Comunque voi avrete da oggi fino alle prossime due settimane Il tempo di inserire il vostro cartone animato che volete Quindi io vi ringrazio per aver visualizzato questo video Ci vediamo alla prossima puntata da Computer Museo Ciao!